Dopo la programmazione estiva all'aperto tesa a ricreare una relazione vitale con i cittadini interrotta dalla lontananza causata dalla pandemia, lo spazio matta riapre finalmente le porte alla città. Sempre all'interno del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara, la rete artisti per il matta, questa mattina in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura, ha presentato una ricca stagione di attività da ottobre a dicembre. Sì, oggi stiamo portando avanti quello che è il progetto del Bando delle Periferie in coordinato con la Presidenza e il Consiglio dei Ministri. Oggi ho invitato le tre associazioni culturali, sono Movimentazioni, la Favola Bella e Spazio per il Matta, per illustrarci quelli che saranno i programmi del periodo natalizio. Tutto questo per rendere tutti i cittadini di quello che si farà nelle periferie della nostra città, perché è importante dare spazio, dare delle motivazioni giuste a tutti coloro che vogliono presentare dei progetti, essere presenti sul nostro territorio e non solo nel centro della nostra bellissima città, ma anche nelle zone periferiche. Sì, sono stati già portati avanti dei progetti durante il periodo estivo e il periodo anche precedente. Adesso stiamo cercando di rendere vivo questo Natale anche per dare una motivazione in più a queste associazioni per potersi esprimere nel nostro territorio.